Sì, 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 è uno solo, sai? No, è uno, è uno. No, a posta, lo vediamoci là a cercare. Eh, lo vai, a cercare. Aspetta che si giurla a posta. Metto sopra tutto. Eccolo, l'ho visto. Dove, dove? Dove ristorante. A G, T, che stai, va là? Là, stai, vieni. Voi loco, dove sta? Eccolo qua. Ah, pur l'NPC si è remisa, lo uccide. È perché qualcuno l'ha sparato, l'ha sparato lui o... Io, per sparare a lei, ho sparato a lui. Ma non è la miseria. No, chi è stato? No, ma colpita me, sentite la struttura di legno. Quale struttura di legno? Stavano, colpite Giovanni. Hai sceso giù, è sceso, ora. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, ma sta arrivando da noi, sta arrivando, eh, l'ho visto. Santo c'è spugge. Aspetta. Ah, fammi. Bella. Bella. Ah.